Tornerà a riunirsi domani alle 20.30 il Consiglio Comunale di Tremessere Etneo, che dovrà trattare un argomento molto delicato, quello relativo alla destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I consiglieri comunali saranno dunque chiamati a decidere sulla sorte di quegli immobili che potrebbero essere dedicati ad opere di utilità sociale, tra gli altri argomenti che dovranno dibattere nel civico consesso anche la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.